E ciao ragazze e ciao ragazzi, io sono Tommy, il vostro amichevole podcaster di quartiere e oggi siamo tornati con la terza puntata dove andremo a vedere come caricare il nostro podcast sul nostro podcast hosting. In questo caso utilizzeremo Anchor. In questa puntata, ma anche nelle prossime, mi sentirete parlare principalmente di Anchor perché è il podcast hosting che utilizzo di più e che ho iniziato ad utilizzare quando ho per l'appunto cominciato a fare questa attività. Quindi ragazze e ragazzi, bando alle ciance, let's dive in, let's go! Bene, siamo sul nostro podcast hosting, Anchor.fm, questa è la nostra home page. Prima di partire, se non avete visto il video che ho pubblicato ieri, dove parlo per l'appunto del podcast che andremo a caricare oggi, andatelo a vedere perché è una puntata veramente speciale. Quindi, torniamo alla nostra home page. In alto a destra possiamo vedere i nostri pulsanti di iscrizione e di login. Qui, semplicemente, se avete già un account Anchor, potete semplicemente fare login ed entrare. Qui in basso abbiamo i nostri pulsanti per scaricare l'applicazione di Anchor sul nostro iPhone o sul nostro dispositivo Android. Scendiamo. Qui ci danno ovviamente tutte le informazioni riguardo al nostro podcast hosting. E la cosa più bella, secondo me, di questo podcast hosting è il fatto che possiamo caricare un numero illimitato di audio senza pagare un abbonamento mensile. Gli altri podcast hosting come Buzzsprout o anche Spreaker purtroppo non vi danno la possibilità di fare questa cosa qua. Avete, diciamo, un archivio limitato di audio da poter caricare. Noi scendiamo, 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 scendiamo. Qui ci dice che abbiamo anche le analytics, cosa molto utile. E la cosa bella è che Anchor ci dà sul loro canale YouTube una serie di tutorial da poter guardare per seguire passo passo la nostra realizzazione del podcast sia da mobile che da desktop. Lo farò anche qui su questo canale, ovviamente. Adesso lo vedremo da desktop. Qui scendiamo ancora. Qui abbiamo i testimonial, i podcast che troviamo anche già su il nostro Anchor e così via. Bene, questa è veramente una overview super rapida perché voglio passare subito alla parte pratica. Io ho già qua pronta la mia pagina dove fare login. Facciamo login. Aspettiamo. Benissimo. Chiuderemo questa pagina qua, giusto per... Bene, allora, adesso siamo all'interno del nostro podcast hosting. Siamo nella mia dashboard, il vostro amichevole podcaster di quartiere e qui abbiamo il nostro titolo, la nostra descrizione. Qui ci dice Available on 8 platforms. Qui praticamente ci dice dove è disponibile il nostro podcast. Dopo lo andremo a vedere. Una veloce panoramica anche di questa dashboard. Qui abbiamo gli ascoltatori, diciamo gli ascolti, scusate, totali. Qua ci dà anche una stima delle persone che hanno ascoltato il nostro podcast e qui abbiamo il nostro portafoglio basato principalmente sulle sponsorship che noi andiamo a inserire all'interno delle nostre puntate. Questa cosa della sponsorship devo ancora verificarla ma da quello che ho capito e da quello che mi ha detto l'assistenza di Anchor è disponibile solo negli Stati Uniti d'America per adesso. Quindi scendiamo. Qui abbiamo ovviamente i nostri grafici basati sugli ascolti dei nostri podcast. Ovviamente mesi è il totale dei nostri ascolti. Qui ovviamente se andiamo sui picchi possiamo vedere comunque tutti i nostri ascolti. In basso abbiamo i top episodes, cioè gli episodi che sono andati meglio. I nostri ascoltatori, da dove ci ascoltano, con che dispositivo ci ascoltano, con che applicazione di podcasting ci ascoltano. E questa era, diciamo, una veloce panoramica della mia dashboard. Molto semplice e molto intuitivo. Se noi vogliamo andare a cambiare le impostazioni del nostro account Anchor e quindi di conseguenza nei nostri account di podcasting come Spotify, Google Podcast, iTunes e così via, dobbiamo andare in Settings, Update Settings. E qui abbiamo tutte le nostre impostazioni. Il nome del nostro podcast, la nostra descrizione, la categoria in cui classificare il nostro podcast. Qui possiamo personalizzare il nostro URL, inserire il nostro sito web esterno, la nostra email e tra poco ci arriva l'email perché è una parte importante. Voice messages, vedremo anche questo dopo. Qui ci dice, come ho detto prima, dove il nostro podcast è disponibile. Quindi, come vedete, abbastanza piattaforme. Andiamo in avanzate. Qui in avanzate abbiamo il nostro RSS feed. A cosa serve il nostro RSS feed? Allora, principalmente se vogliamo utilizzarlo per il nostro sito web, quindi collegarlo al sito web di nostra proprietà e avere praticamente tutte le nostre puntate inserite all'interno, diciamo, della nostra home page o della nostra seconda pagina, eccetera, eccetera, eccetera. Perché la mail è importante? Perché noi, quando andremo a copiare il nostro RSS feed all'interno del nostro sito web o, per esempio, all'interno di siti esterni per monitorare magari l'andamento dei nostri podcast, vedi Spotify for Podcaster, noi dovremo andare ad attaccare il nostro RSS feed con all'interno la nostra email, quindi questa, ok? Se noi non spuntiamo questa sezione qui, Display Personal Email Address Publicly in RSS feed, quando andiamo ad attaccare il nostro RSS all'interno del nostro sito web o comunque soprattutto all'interno di siti di terze parti, quando il sito di terze parti ci invia il codice per confermare l'RSS feed e non trova l'email che abbiamo inserito all'interno di Anchor, praticamente cosa succede? Il codice viene mandato a una mail autogenerata da Anchor, ok? a cui voi non avete accesso. Di conseguenza dovete contattare l'assistenza, farvi mandare l'accesso a quell'email o, in alternativa a quello che è successo a me, Anchor mi dice di cambiare l'email. Infatti io l'ho cambiata e sono riuscito a fare tutto. Devo dire comunque che l'assistenza di Anchor è molto valida, quindi ragazzi state tranquilli. Poi abbiamo la lingua del nostro podcast, che è l'italiano, e il contenuto. Abbiamo il contenuto clean, pulito, cioè adatto ai minori di 18 anni, anche dove non ci sono paraulacce, dove non diciamo cose sconce o cose così, e il contenuto explicit, cioè per i maggiori di 18 anni. Questa, diciamo, è la sezione dedicata alle mie impostazioni. Qui ovviamente possiamo caricare la nostra immagine del nostro podcast show, la potete fare in Photoshop, la potete fare su Canva, la potete fare veramente con qualsiasi tipo di software per la creazione di grafiche, ma allo stesso tempo, se volete, la potete creare all'interno di Anchor. Se noi andiamo in Update Cover Art, qui possiamo fare Choose One For Me. Adesso non lo faccio perché sennò mi cambia l'immagine da tutte le parti. Facendo Choose One For Me, cosa succede? Praticamente Anchor ha al suo interno un piccolo editor per creare l'immagine del nostro podcast, dove possiamo inserire i testi, cercare delle immagini che sono già all'interno di Anchor, e sono tutte gratuite. Quindi, anche se non siete schillati sulla parte di grafiche, non sapete farvi magari l'immagine, la grafiche del vostro podcast show, lo potete fare direttamente qui dentro. Vediamo questo. Bene. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo, innanzitutto, a salvare le nostre impostazioni. Adesso vediamo la parte pratica, come caricare il nostro podcast. Io, ovviamente, sul mio desktop, qui a sinistra, ho già pronto il mio file mp3 e, diciamo, il mio file txt con la mia descrizione già pronta. Quindi, ringrandiamo qui. Andiamo in New Episode. Andiamo qui. Bene, abbiamo di nuovo un pannello con molte opzioni. Prima di caricare il nostro podcast, andremo a vedere un paio di cosette. Allora, qui abbiamo Record, Cioè, qui, cosa possiamo fare? Registrare direttamente all'interno di Anchor il nostro podcast. Ok? Quindi, semplicemente, cliccando qui, scegliere il nostro input. Io, in questo caso, ho una scheda esterna attaccata, quindi sceglierò la scheda esterna. Adesso qui c'è la webcam. Noi andremo su USB. E fare Start Recording Now. Quando fate Start Recording Now, registrate direttamente all'interno di Anchor il vostro podcast. Ok? Poi abbiamo i messaggi. Qui potete caricare i messaggi che vi vengono mandati dai vostri ascoltatori. Direttamente su Anchor, se l'utente, ovviamente, ha un account Anchor, o tranquillamente trascinando un file audio. Andiamo nella libreria. Nella libreria abbiamo praticamente tutti i nostri audio. E qui possiamo fare diverse operazioni. Possiamo cancellare, ovviamente, il nostro podcast, scaricarlo, ma allo stesso tempo anche modificarlo. Possiamo modificare il titolo del nostro podcast. E quando lo andiamo a trascinare qui dentro, che è la sezione dove va, diciamo, selezionato il nostro audio, avremo la possibilità anche di modificarlo. Ovviamente non è un editing professionale, ma avete la possibilità di splittare, cioè di tagliare parti magari del vostro audio, del vostro podcast, che non volete inserire nella versione ufficiale. Poi, cosa possiamo fare? Aggiungere una musica di sottofondo, quindi Add Background Music, lo potete fare e, come vi ho detto nella puntata precedente, Anchor vi dà la possibilità di utilizzare delle musiche gratuite, già presenti all'interno del sito, da utilizzare per il vostro podcast. Io consiglio sempre di mettere una musica di sottofondo, ovviamente adatta al tipo di puntata che state facendo. Poi abbiamo le transizioni. Le transizioni anche qui sono gratuite, potete inserirle all'interno del vostro episodio. Quindi cosa potete fare? Se registrate all'interno di Anchor, andare in record, registrare una intro all'inizio, quindi chiamare il file intro, poi registrare la vostra puntata e registrare magari un outro. Quindi avete tre file registrate all'interno di Anchor. Andate in Transition e potete selezionare una transizione da applicare tra la vostra intro e l'inizio della vostra puntata e alla fine della vostra puntata e l'inizio della vostra outro. Semplicissimo, è un drag and drop. Voi lo spostate qui dentro e qui in questa sezione avrete tutti i file audio che andranno caricati successivamente all'interno, diciamo, del nostro editor per selezionare e per decidere ovviamente dove pubblicare il nostro podcast, la nostra descrizione, il nostro titolo. Io cosa farò adesso? Adesso andrò a caricare semplicemente il mio file dal desktop con un semplice drag and drop. Adesso ovviamente ci metterà un po'. Qui mi chiede se voglio mettere un sponsored segment ma io non lo metterò perché non voglio sponsorizzare assolutamente nulla in questo momento. Intanto faccio tipo un balletto di incitamento al caricamento. mi raccomando nominate il file nella maniera corretta sempre per tutta, diciamo, la parte SEO perché anche qui abbiamo dei piccoli accorgimenti lato SEO da fare. Bene, il nostro podcast è pronto. Ok, dobbiamo fare solo save episode. Facciamo save episode e arriviamo qui. Bene, le opzioni del nostro episodio. Possiamo pubblicarlo subito o salvarlo come brutta copia. Iniziamo. Io vado a prendere ovviamente il mio file di descrizione. Bene, come per magia il titolo è stato impostato e anche la nostra descrizione. Mi raccomando anche all'interno della vostra descrizione fate ovviamente un bel testo accattivante. Inserite pure i link perché soprattutto su Spotify sono cliccabili. In questo caso non vado a mettere delle show notes perché questo podcast è diciamo un one shot one kill come li chiamo io ed è una parlata lunga senza dei punti chiave al suo interno. Quindi, descrizione impostata titolo impostato. Adesso andiamo a vedere le sezioni sotto. Abbiamo publish date. Possiamo pubblicarla adesso dal momento che io andrò a cliccare publish o programmare l'uscita del nostro podcast. Semplice. Possiamo scegliere il giorno che vogliamo. Chiudiamo. Qui possiamo customizzare cioè personalizzare il nostro episodio qui possiamo decidere di cambiare anche l'immagine del nostro podcast non ci sono problemi per farlo basta fare upload new episode art. Qui possiamo dare il numero della nostra stagione in questo caso sarà la prima stagione l'episodio è il quinto è il quinto episodio perché perché non fa parte dei tutorial il podcast che andrò a caricare adesso ma delle puntate dedicate alla mia vita che avevo iniziato a marzo se non le avete ascoltate potete andarle a ascoltare su Spotify Google Podcast iTunes o addirittura qui su Anchor quindi questa è la quinta puntata quindi segniamo quinta puntata il tipo di episodio completo il contenuto è pulito possiamo tornare su bene a questo punto il nostro podcast è pronto ancora un piccolo accorgimento qui potete vedere potete diciamo personalizzare anche il testo cosa succede su Anchor potete vedere effettivamente il testo formattato su Spotify per esempio no già gli spazi di HP su Spotify non si vedono è tutto un blocco unico di testo quindi praticamente noi abbiamo concluso il caricamento del nostro podcast abbiamo caricato la nostra descrizione la nostra immagine il nostro titolo abbiamo deciso la stagione e l'episodio quindi cosa possiamo fare adesso semplicemente andare qui in alto controlliamo ancora una volta che il nostro titolo sia giusto bene è giusto e possiamo andare a fare tranquillamente publish now bene a questo punto il nostro podcast è stato pubblicato vogliamo fare un controllo per sicurezza andiamo nella sezione episodi andiamo nella sezione episodi qui abbiamo la lista di tutti i nostri episodi bene è stato pubblicato se poi vedete che ci sono degli errori vedete che c'è qualcosa che non va basta andare qui e cancellare l'episodio in automatico anche sulle altre piattaforme verrà cancellato questa era la mia guida passo passo per caricare i nostri contenuti audio su Anchor il nostro podcast hosting se avete dubbi se avete domande non esitate a farle nei commenti cosa andremo a vedere nella prossima puntata ci sto ancora pensando però molto probabilmente andremo a vedere come costruire un nostro piccolo studio di registrazione con meno di 100 euro ragazze ragazzi se il video vi è piaciuto se il video vi è stato utile mettete like iscrivetevi al canale e se avete domande scrivetemi da Tommy il vostro amichevole podcaster di quartiere è tutto